Ben tornato al maestro Emanuele Lenti, inesima edizione per lui di Repanettone. Che cosa ci ha portato di nuovo quest'anno? Quest'anno ci siamo divertiti con una nuova novità, che il panettone abbiamo detto, abbiamo inserito una liquirizia in polvere pura al calaprese. L'accompagniamo ogni confezione con una crema bianca alla menta, quindi consigliamo di tagliare la fetta del panettone e soprapassarci sopra un filo di questa crema bianca alla menta. E devo dire che sta avendo un grosso successo, è molto apprezzato da chi lo sta assaggiando e speriamo che continui questo tour. L'edizione invece in generale come sta andando? Sempre più caotico, sempre più persone si stanno interessando di questo evento e quindi sta diventando più famoso. Faccio i miei complimenti e mi auguro di rivederli all'anno prossimo. Grazie a te.